Raccontare la vita di Taranto attraverso gli occhi degli stessi tarantini, in altre parole un vero e proprio film da creare insieme. È la sfida del Taranto Social Film, il progetto presentato due giorni fa al cinema Bellarmino del capologo Ionico. Chiunque potrà girare i propri video anche con uno smartphone e inviarli all'organizzazione per concorrere alla realizzazione del film. I video saranno selezionati da professionisti del settore audiovisivo e la regia sarà affidata ad un regista pugliese che realizzerà il prodotto finale. Cosa è Taranto? Qual è la sua vera immagine? Quali sono le storie e i luoghi che vivi ogni giorno? Cosa c'è sotto la polvere? Questi gli interrogativi a cui rispondere con le immagini. I video dovranno essere inviati dal 21 marzo al 15 aprile all'indirizzo di posta elettronica tarantosocialfilm.com I video della durata massima di 5 minuti dovranno essere stati girati tra il 1 gennaio 2014 e il 15 aprile 2015. Sviluppati in orizzontale con audio e dialoghi, avere come protagonisti paesaggi, personaggi e storie conosciuti dall'autore. L'organizzazione utilizzerà i canali Facebook e YouTube per informare sullo stato di avanzamento del progetto. L'idea nasce dagli esperimenti cinematografici di Life in a Day di Ridley Scott e Italy in a Day di Gabriele Salvatores. Ha spiegato Valeria Pesare, videomaker, esperta in comunicazione web e impegnata nel sociale, direttore artistico del progetto. Il progetto nasce dall'esigenza di costruire un'altra immagine di Taranto e un'immagine vera, attraverso il contributo di chi la città la vive, dai cittadini a chi se ne è innamorato passandoci, e costruire un'immagine diversa e altra da quella che si conosce. Nell'ambito del Taranto Social Film rientrano una serie di incontri culturali, escursioni e degustazioni organizzati nei vari quartieri di Taranto, promossi dall'Associazione Culturale Fuori Fuoco, che dal 2014 si spende sul territorio per promuovere l'interesse per la cultura cinematografica e artistica. Il progetto del Taranto Social Film di Valeria si sposa benissimo con i nostri obiettivi e quindi siamo ben felici di promuoverlo e di aiutarla in questo progetto.